Quindi un insieme di modelli che ottiene un risultato lo possiamo considerare come un modello Ensemble, cioè un modello di insieme, di modelli più semplici per ottenere un risultato unico. Quali sono i vantaggi di questo modello Ensemble? Andiamoci matematicamente. Se consideriamo una distribuzione binomiale, quindi una distribuzione di probabilità dell'errore dei singoli modelli, per capire se la probabilità totale di tutti questi modelli messi insieme è maggiore o minore della probabilità di errore del singolo modello. Qui abbiamo la formula della distribuzione binomiale, dove per un'uscita consideriamo ad esempio di avere n modelli, e quindi ad esempio 11 modelli, e vogliamo sapere la probabilità che 6 di questi modelli, k uguale 6, siano errati. Per ottenere questa probabilità abbiamo qui la formula della distribuzione binomiale, dove abbiamo qui il coefficiente binomiale n e k, che sarebbe n11 e k6. In questo caso il coefficiente binomiale viene calcolato come n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k fattoriale. Per l'errore del singolo modello, cioè la probabilità di errore del singolo modello, in questo caso lo chiamiamo ε, elevato a k, per 1 meno ε elevato ad n meno k. Questa è la distribuzione totale dell'ensemble. Quindi a questo punto noi calcoliamo la probabilità che la previsione dell'insieme sia errata. Questo significa che più della metà dei modelli dell'insieme dà una previsione errata. In questo caso quindi dovremmo calcolare la probabilità che y sia maggiore o uguale a k. In questo caso se k è 6, che y sia, visto che i modelli totali sono 11, quindi per avere una previsione errata, almeno 6 di questi modelli devono avere una previsione errata. Quindi calcoliamo la probabilità che almeno 6 di questi modelli abbiano una previsione errata. Almeno 6 significa che k assumerà i valori 6, 7, 8, 9, 10 e 11 appunto. Quindi sarà la sommatoria, considerate che questo k maiuscolo è 6 e il k misuscolo è l'indice. Quindi sarà la sommatoria da k, quindi da 6 a n, che sarebbe 11, della probabilità data dalla distribuzione binomiale. Quindi n su k, cioè il coefficiente binomiale, per ε, che sarebbe la probabilità di errore del singolo modello elevato a k, per 1 meno ε elevato a n meno k. Questa è l'errore totale, la probabilità di errore totale del modello ensemble. Quindi se consideriamo n uguale 11 appunto, è l'errore, quindi la probabilità di errore del singolo modello 0,25 in tutti i modelli indipendenti, e tutti con la stessa probabilità, questa naturalmente è una semplificazione, abbiamo che p di y maggiore o uguale a 6 è uguale a sommatoria per k che va da 6 a 11, del coefficiente binomiale 11 su k, che assumerà i valori 6, 7, 8, 9, 10, 11, per 0,25 su k, che è la probabilità del singolo modello, per 1 meno 0,25 su 11 meno k. Calcolando questa probabilità avremo un errore dello 0,034, quindi nettamente inferiore all'errore del singolo modello. Questo dimostra che la probabilità di errore del modello ensemble è nettamente inferiore rispetto alla probabilità di errore del singolo modello. Questo però avviene solo se la probabilità di errore, questa è una piccola nota che faccio, la probabilità di errore del singolo modello è inferiore al risultato random, cioè allo 0,50%, perché in quel caso se è superiore al risultato random, cioè allo 0,50%, il modello ensemble amplificherà in qualche modo questo errore. Quindi significa che il singolo modello comunque dovrà avere, non dovrà essere random, dovrà avere una probabilità di errore sicuramente inferiore al 50%. Grazie. 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 Grazie.